Io ho il lagmin, vabbè Ok, Anker qua Ma in postura Anker, Anker Sarai sto round, sarai sto round Mamma mia, sempre Vaniz Eccoci Eccoci Dai, dai, dai Ma non c'è nessuno qua Scusami, Ivan Ma è un attimo di trego questi impostori Dico solo grazie a chi mi ha ucciso Perché mi sono rotto il cazzo di fare il crew member Prego, andate avanti Ok, c'era il corpo di Soul in admin E non c'era nessuno Non è passato nessuno, né dal corridoio Sopra, prima di reportare Sono andato in giro a vedere Admin è alta a destra, no? Esattamente, dove prima il maestro era Che c'era il radar Ed era proprio lì davanti alla porta E ha preso la botola Perché non c'era nessuno Né up, né sotto al corridoio Non è passato proprio nessuno Che era nel reattore vicino a me Che non ho visto il colore Io ero, sono salito su Ho fatto un task e reattore Non so se ti riferisce a me Sì, mi sa di sì Perché sto facendo la task Ma non ho visto il tuo colore Perché non ho riuscito a vedere Barbara, Vanessa Allora, all'inizio Fermo la task E poi Un giro in solo Ha fatto Niente Quella vicino al corridoio Sempre il solito corridoio Che sale Quello sulla sinistra Barbara, penso mi hai visto anche tu Sì, sì Io ho visto Hank, che stava salendo Però io mi sono fermata per la task Sì, ho fatto un attimo lo scanner E poi se mi chiudo so No, anch'io Stavo dicendo tipo Hank Che ha premuto il bottone È andato su E io mi sono fermata per fare la task E poi stavo salendo anch'io su Allora io vi posso tra l'altro Togliere altri due Perché io e Gischianto siamo rimasti all'inizio Dove tutto il fatto, no? Perché lui era fermo E io stavo facendo la task Quella del Di staccato Stavo attimo ritrovendo un'imboltazione Sì, ma basta cliccarla e andare via Poi torni Non l'avevo mai fatta Non la trovavo Tra l'altro sarebbe da idiota dirlo Perché Gischianto era lì fermo da solo Poteva ucciderlo E nessuno se ne sarebbe accorto Quindi è inutile Sarei stato zitto se fossi l'impostore Cioè, oggettivo Quindi voi due eravate a sinistra No, era per toglierne altri due Sicuramente Poi se volete dubitare di me Femme già Eh, va bene Non va bene Ragazzi, qualcuno mi ha visto Ma era Vanessa? Era Vanessa che mi ha visto? Era Vanessa? Grazie Frank Era Vanessa? J-1-A-A-O-E-K-S-I-S-U-A-K-U-S-U-D-A-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Grazie bello. Siamo come il padre figlio spirito sol di cocain armi droghe. Grazie a tutti. 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 Io posso confermare di Ivan ma non mi fido di Vanessa infatti l'ho votata. Nessuno può salvare Omi? Tranquilla guarda non so se da... Mi spiace. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che acabi. Tutti work su Vanessa è molto carovaluta in questo video. Grazie Ale. Tra i saluti da Sandro Bex ci vediamo a Pasquale. Eh non c'è nessuno Vanezza. Grazie Bro. Non sto giocando bene. Non sto giocando bene. Mamma mia meno male. Meno male. Non sto giocando bene. Non sto giocando bene. Stavo verso la luce e c'era il cadavere nel corridoio. Di chi? Di Saul. Dove esattamente? Nel corridoio per andare verso su. Nel ramo sinistro. Ok allora. Io ho fixato le luci. Io vi posso dire con estrema certezza che è Omi perché l'ho visto uscire da una botola. Stavo correndo per reportare e il problema è che sono andati via le luci quindi ho dovuto aspettare giù in basso a destra. Bene le luci. Questa è l'accusa a me. Quindi report Omi? Io report Omi perché l'ho visto uscire dalla botola quando stava scendendo giù dall'in alto a sinistra. Non so i nomi dei posti però io stavo aspettando si aprisse le porte e improvvisamente hop è saltato fuori Omi dalla botola. Mi sembra abbastanza sincero. Cominiamomi ragazzi. Ragazzi io ero con Ivan e Saul che ci difendevamo a vicenda e gli altri due sono morti. E loro due avevano detto che io ero buono. Ho dei sospetti comunque perché si muove sempre. Tizza perché sei in chat? Tizza non dovevamo chiudere le stream? Io ho la stream chiusa. Io ho la stream chiusa. Vabbè comunque vi dico che non sono io. No 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 no. Non usare sta roba qua Omi perché veramente mi metti in una brutta posizione anche rispetto agli altri. C'è nel senso è chiaro che non lo faccio. Stream is in angle. Ma guarda lì il mio cane. Senza un padrone con un occhio solo. Ok devo aiutar Vanessa. Devo aiutar Vanessa. Devo aiutar Vanessa. Eh però cavolo spero che non... Spero che capiscano che la mia accusa di... Oh Tizza è morto. Poverino. Ok. Mandiamoli tutti in su. Così non vedono il cadavere di Tizza. Li manderemo tutti in su. Così non vedono il cadavere di Tizza. La vedo dura eh la vedo dura la vedo dura. La vedo dura. Molto dura. Molto dura. Molto dura. Ma credo che il corpo di Tizza lì non venga... Non venga visto. Non venga visto il corpo di Tizza. Oh no non l'ho trovato. Barbara sei passata davanti Tizza. Non l'ho visto. E sei salita su. Non l'ho visto. Perché non c'era mi sa. No non lo so in realtà. Era l'angolo. Non c'era. L'ho visto salire proprio sulla stanza. Infatti ma perché sta tirando dritto? E io stavo cercando cadaveri e... Ma ce l'ave... No veramente. Barbara è tirato dritto. Per me. Non so. E tu mi stavi inseguendo? Non ti stavi inseguendo. Stavamo facendo le stesse cose. Ti ho visto... Cioè... Io non stavo facendo nulla di logico perché ho finito il task. Quindi... Sì ma poi il punto... Ma però secondo me... Non conosco la televisione. Però il postore è più probabile che... Non siamo nessuna delle due. Perché siamo privati in realtà. Quindi... Siamo così per sicurezza. Ma l'avrei riportato? Cioè eri tu dietro di me non ha senso. E infatti dico nessuna delle due vabbè. E quindi... Io posso sicurare il Gischianto? Siamo buoni. Mister Biste è qualcosa da dire? Felpa Giallo è stato un sacco con me. Ma Mister Biste è qualcosa da dire? Nulla. Io vi osservo. Vi osservo e vi... Ah che sono tu Mister Biste. Stavo facendo le stesse cose. Perché andavamo su a fare il codice. Eri accanto a me. E poi siamo scese. E vabbè. E' qualcuno che ha preso sicuramente la botola. Io in realtà sto... Ecco durante l'emergenza dove eravate? Questo bello scontro tra donne. Era in giro. Durante l'emergenza... Dai durante l'emergenza dove eravate? Grazie Franz. Metà mappa. Ho visto che c'era già gente. Mi sembra Mister Biste e Gischianto stavano disattivando quella in basso a sinistra. Quasi allo spawn. Hai ragione Felpa Giallo. Ero proprio lì. Ero un troll? No. Ok mi sembrava. Quindi Mister Biste e Gischianto erano insieme? Sì. Quindi voi due siete... Mi sembrava messo in basso a sinistra. Stavamo ballando alla tarantella. E quindi è fra i ragazzi. Ragazzi qualcuno deve volare fuori perché sennò che... E' verba Giallo. Io ve ne serviamo insieme. Come tu? Mister Biste e Max Demi. Ma come fai a dire questa roba qua Barbara? Cioè tu puoi buttare farla? Cioè tu puoi buttare la vita? Io ho votato Barbara perché è uscito un po' di Vanessa. Ok, ok Felpagialla non c'è Felpagialla non c'è Fatemi aiutare La ragazza Vanessa è qua con Barbara e Mr Beast Ecco Felpagialla che arriva Ecco Felpagialla che arriva Vanessa che dove va, dove va Vanessa Allora Io ritornerei A esaminare bene la situazione prima che qualcun altro muoia È sospetto Questo call No no non è sospetto Perché qui Ragazzi Se tu vuoi giocare così Capisco quello che intendi dire Almeno c'è la possibilità che i cattivi vincano Però C'era della confusione Nel chiarimento fra Barbara e Vanessa Questo volevo capire Perché noi tre Quindi Mr Beast E ci schianto E Felpagialla Eravamo insieme No, noi eravamo su A fare il codice Poi siamo scese insieme Dal corridoio Fino ad incontrare Sì ma lì È round di prima È round di prima È morto Tiz Ed eravate due Ah Perché parlavate di confusione di prima No no Perché io ti dico che eravamo I maschi erano tutti insieme Le donne Erano vicino a Tiz E quindi Tiz è morto Quindi Ah Tiz Circondato dalla donna Non è che eravamo vicino a Tiz Ma non è che l'abbiamo trovato O uno di noi o uno di noi maschi era Oppure uno di voi Io otterrei per far volare qualcuno Ma in realtà Ma la mappa è grande Allora Penso che uno L'abbiamo fatto fuori E' un'idea Sennò Questa L'aveva Uno L'abbiamo fatto fuori Secondo me conviene All'impostore Buttare fuori uno Anche secondo me Ah Però non lo so Non so Non so Potevo uccidere Ma io potevo uccidere benissimo Gisca anche perché Anche perché Se il paggialla era con Noi Ma è L'abbiamo Anche io C'ho dubbio Dubbio Perché rispettiamo Le tante La tua Le macche Impossibile O voi avete Sì non lo so Ma Cioè voi Siete stato Tutto il turno Prima insieme Tutto I bocani 10 10 secondi Eh Abba Arma Iscritto Ah va bene E' stato Bello Vivere Un'è stato Morenna Adesso Barbara o Vanessa Ci sguzza Io mi attacco Sì ragazzi Andrea Oh aspetta non sono mutato Oh vai Andrea Anche Aspetta Dimmi Sì sono in live da te Sono morto da 20 minuti Sì sì lo so è un meme Anche È un meme Fammi imparare di nuovo Andre 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 Non è un meme Dal momento che poi La gente viene a insultarmi Buonanotte Quando è chiaro che La gente Cioè che Io sono nella tua chat Ma perché ho aperto 5-6 pagine assieme Alla dashboard autore E poi le metto giù Per poter giocare Ma non sono mai finito Nel tombino Eh Non sono mai stato Nel tombino Ma allora Io ti dico Io ho visto Aprirsi le porte E ho visto te Saltare fuori Poi non so se magari Ho sbagliato io a guardare In chat Ma hanno confermato tutti Che sembrava così Magari che cazzo ne so Perché c'era il fumo Io che cazzo ne so La seconda volta Che gioco a sta mappa Però Aspetta Ok è Vanessa È Vanessa Sicuramente Vanessa Easy Io eravamo Eravamo Io mi servizio E G schianto E quindi per forza Barbara Barbara è stata con noi In reattore Quindi Comunque E quindi ha ammazzato il corpo Davanti a me Io non me ne sono accorta No 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 Non è così Allora io Barbara Barbara l'ho tenuto ad occhio Tutto il tempo Insieme a Esatto Io non avrei mai potuto E' oscena Non riesco Mi aveva quasi convinto No no ma non l'ho ammazzato In quel momento L'ho ammazzato tre ore fa Sì ma Sì ma Che riusciamo di nuovo Io e lei Il turno dopo È un casino Così Ok Ti giuro E non l'aveva proprio Visto Comunque Mi servizio Secondo me Dovevamo rischiare Prima Ah in realtà No era Cominiva L'impostora La mia Abbiamo perso Metti caso Non fosse stata Abbanista Era barbara Eh però erano loro due C'è Ragavano anche io Dai l'ultima 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 Io la sette Sì